Torna anche quest'anno Teramo Street Food, quest'anno però con una novità, perché è un evento tutto teramano senza nel menù Olivia Lascolana. Ci sembrava giusto in questo momento essere vicini a una situazione molto negativa e molto sconvolgente per la città. E se questo poteva dare adito a battute, a chiacchiere, anche a dispiaceri, abbiamo con molto piacere evitato di fare le Olivia Lascolane. La fata padrone è la tradizione teramana, il motivo per cui noi ristoratori scendiamo in strada attraverso questo strumento dello street food. Chiaramente ci sono anche delle novità, però in assoluto la cucina teramana. Parlo di mazzarelle, trippa, spezzatini, chitarrina, arrosticini, formaggio fritto, chi più ne ha più ne metta. Assessore, si parte questa sera e Teramo Street Food come sempre sarà contornato da eventi anche musicali? Sì, ogni serata ci sarà un evento musicale, si parte stasera per finire lunedì. Quest'anno sono cinque giorni, cinque serate di buon cibo, di buona musica. Torna alla seconda edizione perché la prima ha avuto successo, ma soprattutto perché con il mio assessorato, con le attività produttive, ma con la promozione dei prodotti tipici vogliamo valorizzare la grande cucina teramana e lo vogliamo fare sia con quest'evento, ma anche e soprattutto con altri eventi che valorizzino stagionalmente i nostri piatti della tradizione.